Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, come avrete letto dal titolo oggi andremo a vedere 10 nuove corporature del nostro personaggio, ma devo informarvi che le seguenti corporature che vedrete sono state realizzate da me e non da Starstable, quindi spero che vi piacciano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tuttavia Starstable ha affermato che in futuro vorrebbe davvero aumentare le opzioni sulle tonalità della pelle, per esempio aumentare la definizione muscolare e quindi aggiungere ulteriori corporature, aggiungere cicatrici, smaiature e più personalizzazione. Inoltre nei file di Starstable sono stati trovati nuove corporature che rappresentano anche il personaggio maschile, quindi non solo avremo personaggi femminili ma anche maschili. Beh ragazzi sappiamo tutti che le corporature sono alquanto criticate da tutti, però io penso che dobbiamo dare un'altra chance a Starstable e aspettare che magari aggiungano i nostri corpi ideali e quelli che ci rappresentano realmente. Allora ragazzi fatemi sapere nei commenti quale tra le 10 corporature vi ritrovate meglio e fatemi sapere inoltre se volete una seconda parte non solo femminile ma anche maschile. Bene ragazzi il video di oggi conclude qui, spero tanto che vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima, ciao!